Ben tornati a Radio Design, sono sempre io Nicola Palumbo qui dall'Istituto Italiano Design. Oggi abbiamo uno ospite, anzi due, poi vi spiegheremo perché, Silvia Logozzo, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, tu sei il responsabile scientifico di un'azienda che si occupa di scansione 3D. Esattamente. Non stampe perché potremmo uccidere chi dice questo. Esatto. Scansione, oggi parliamo di scansione 3D e design. Di cosa si occupa la tua azienda, intanto? Tu sei il responsabile scientifico, giusto? Sono il responsabile scientifico di questa azienda. L'azienda si chiama VigerSRL ed è un'azienda tecnologica, una start-up innovativa che si trova a Bologna. E la mia azienda si occupa a 360 gradi di scansione 3D. Ok, spieghiamolo ai profani perché uno potrebbe pensare, che ne so, di tutto, ma spieghiamolo. Ok, allora, la scansione 3D è un settore in larghissimo sviluppo, soprattutto in quest'ultimo periodo, perché è una tecnologia che permette di riprodurre qualunque oggetto in 3D per poi utilizzare il modello tridimensionale per svariate applicazioni. Esatto. Qualcuno potrebbe pensare magari a piccole applicazioni come, che ne so, scannerizzare, che ne so, una scarpa o qualcosa. In realtà ho scoperto, parlando con questa simpaticissima ragazza che anche lei ha fatto una scansione, diciamo, umana, per cui vi spiego cosa vuol dire dopo, che si possono scannerizzare anche interi palazzi. Allora, la cosa bellissima della scansione 3D è che non esistono veramente limiti alle applicazioni. Quindi possiamo scansionare oggetti delle dimensioni di un gioiello minuscolo, di una pietra, piccolissima pietra preziosa, fino a interi palazzi, interi edifici. Quindi la cosa più bella e più intrigante di questo settore è che veramente è applicabile a tutto. È chiaro che i settori in cui è più evidente il beneficio possono essere l'industria, la manifattura, la meccanica. Però un settore in cui sempre più la scansione 3D sta intervenendo è proprio il settore del design, e in particolare il settore del mobile. Eh, spiegaci perché, come, cioè, che faccio, scannerizzo un mobile e cosa scopro? Allora, la scansione dei mobili molto spesso è utile nei cicli produttivi per permettere a artisti del mobile di andare a riprodurre anche su scala dei pezzi unici, e quindi permettere a, diciamo, alla sua arte di poter essere riprodotta senza dover andare a manipolare il singolo, ogni singolo pezzo. Ok, spiegalo meglio perché, cioè, che ne so, magari ha un prototipo, lo scannerizza e poi dice facciamolo scala 20. Esatto, allora, dalla scansione 3D... È un prototipo di una mesh, quindi è una specie di interpolazione triangolare della geometria del modello. Mi sto già spaventando, però vai avanti. E, ehm, avendo questo modello 3D, su questo modello è possibile intervenire anche a computer e fare delle modifiche, eh, o anche variare la dimensione. Quindi, ehm, una volta ricostruito il modello digitale, sarà possibile fare varie cose. Quindi rimodellarlo, per esempio, andare a progettare su di esso il ciclo produttivo industriale, e quindi poi andare a riprodurlo. Diciamo che questa potrebbe essere una cosa fighissima per anche il semplice artigiano che realizza un qualcosa e che poi, appunto, lo riporta in 3D, in digitale, e poi ci può lavorare in post-produzione, potremmo dire. Quindi, diciamo, una sorta di evoluzione del classico lavoro d'artigiano. Esattamente, ci sono molte lavorazioni che adesso, grazie alla scansione 3D, possono essere fatte digitalmente al computer e non più manualmente sul singolo pezzo. Quindi, una volta effettuata la lavorazione, quella lavorazione diventa universale, perché il pezzo può sempre essere riprodotto in quella forma. Ma adesso ho una domanda curiosa, no? Cioè, visto che, eh, alla fine sono produzioni che hanno, diciamo, dove ci si impiega un sacco di lavoro, eccetera, no? Se poi qualcuno mi ruba questo file, no? Cioè, c'è un modo di criptarlo? Adesso mi è venuta questa domanda. Allora, infatti, questa è la problematica che molti... Sì, sì, è una problematica che molti si pongono. Però ha una problematica anche un po' fasulla, dico io. Perché, per esempio, questo è un problema che si pone l'artigiano e l'artista. Si pongono l'artigiano e l'artista. Infatti io sono un artista, no, sto spazzando. Però in realtà è un problema che tutte le industrie dovrebbero porsi, perché, per esempio, tutte le industrie lavorano con disegni industriali, che sono fatti al computer notoriamente ormai da moltissimi anni. Quindi, chiaramente, è lo stesso problema che ormai le industrie hanno da tanti anni, no? Di tenere, appunto, conservato il segreto industriale, tenere protetto il segreto industriale. Quindi, certo, questa è una cosa che va fatta. I file, chiaramente, sono criptabili. E di sicuro il sistema informatico deve essere molto efficiente in questo caso. Ho cercato di mettere in difficoltà, irresponsabile, ovviamente, queste cose, però mi ha risposto puntualmente, è stata molto brava. Parliamo invece, che ne so, visto che qui c'è anche il corso di fashion design, no? Come si può applicare alla moda tutto questo? Allora, proprio ultimamente abbiamo affrontato questo argomento anche nel nostro blog. Anzi, se vi fa piacere, seguiteci. Fuori il link subito, fuori il link subito. www.viger.eu Di trattino. No, no, sul sito è tutto attaccato, scritto viger.eu. E troverete la sezione 3D Magazine, in cui sono presenti diversi articoli sulle più svariate applicazioni, come vi dicevo. E in particolare abbiamo affrontato anche questo argomento, cioè l'applicabilità della scansione 3D e della modellazione 3D al settore della moda. Abbiamo parlato in questo caso della realizzazione di manichini virtuali grazie alla scansione del corpo umano. Quindi è anche, non solo della realizzazione del manichino virtuale, ma proprio anche del capo di abbigliamento. Attualmente esistono anche dei software abbinabili agli scanner 3D proprio per la realizzazione anche di carta modelli o comunque di abiti su misura, a partire dalla scansione 3D del manichino, cioè quindi della persona che poi dovrà indossarli. Allora, parliamo adesso un po' dello stato dell'arte di questa tecnologia e a che punto sta l'Italia. Adesso lo so che mi dirai tragicamente. Vai, prego. Tragicamente. Come in tutti i settori. Allora, diciamo che da quello che abbiamo potuto verificare noi, questo sviluppo tecnologico in Italia per quanto sia forte dal punto di vista della progettazione magari di nuovi strumenti. Noi stessi siamo anche dei produttori di nuovi scanner 3D. Diciamo che il pubblico degli utenti inizialmente è stato un pochino lento ad accettare queste nuove tecnologie perché questo pubblico va sensibilizzato cioè va sensibilizzato all'utilità che c'è nel poi dotarsi di queste nuove tecnologie e va un po' educato al fatto che a come il processo produttivo in qualunque applicazione possa modificarsi in maniera migliorativa perché purtroppo c'è un po' la tendenza a pensare che il vecchio è meglio del nuovo quindi lasciare la strada vecchia per la nuova può essere a volte un pochino spaventoso e preoccupante ma vi assicuro che lanciarsi nel nuovo mondo nel mondo della scansione 3D può essere oltre che molto interessante e veramente molto amico. Dove ci porterà questa tecnologia? Adesso io mentre tu parlavi stavo pensando io sono un personaggio un po' eclettico dico ok mi puoi scannerizzare la casa di Calatrava e me la rifai uguale? Cioè è fattibile una cosa del genere? Mi arrestano. Davvero? Sì. Non posso riprodurre una qualsiasi casa? No, nel senso che poi appunto ci sono chiaramente i diritti d'autore anche in questo settore. Scusate, sono nell'edionale e non sono abituato a ragionare. Sicuramente non si può riprodurre tutto ma per una questione proprio legale direi. Stavo mettendo in difficoltà il responsabile scientifico della Diger in questo modo. Quindi però diciamo che applicazioni può avere nel campo penso anche o no? Assolutamente, anche in campo edile. Già attualmente gli scanner 3D sono molto utilizzati anche in ambito ambientale, civile, architettonico. è un'applicazione cioè le applicazioni sono molto diverse cioè se noi ci focalizziamo sull'ambito industriale l'applicazione per esempio è molto diversa da quella che si può avere in ambito civile perché per esempio in ambito civile si possono scansionare edifici come dicevamo internamente ed esternamente per varie ragioni quindi per esempio per andare a valutare lo stato di fatto di un progetto e quindi far modifiche sullo stato attuale oppure per andare a valutare lo stato di conservazione oppure anche per fare poi riprogettare eventuali edifici quindi diciamo che le applicazioni sono le più svariate oppure anche per effettuare restauri. Sì, perché immagino che ne so nell'area del terremoto può essere utilissimo per verificare l'esione e cose del genere. Soprattutto per andare a ricostruire diciamo monumenti ed edifici di valore storico questa è un'applicazione molto interessante che chiaramente in queste situazioni di tragedia però sta prendendo molto piede. La velocizza immagina anche il processo per ricostruire quant'altro? Sì, in quel caso diciamo che allora fare la scansione il più possibile di edifici storici è una cosa importantissima perché appunto in caso di terremoti o eventi comunque disastrosi sarà sempre possibile ricostruire quel monumento avendoci come era. Il problema è quando questa scansione non esiste e quindi va ricostruita va ricostruita anche da che cosa? Da ciò che è rimasto quindi in quel caso il lavoro è molto più lungo perché certo la scansione 3D ci viene in aiuto perché si scansiona ciò che è rimasto e da ciò che è rimasto si rimodella in 3D ciò che era. Certo. Allora io ho un naso bruttissimo voi in radio non lo potete vedere e quindi ho chiesto qui alla dottoressa Silvio ho detto puoi farmi scanalizzarmi il naso e magari lo rimodelliamo c'è un'applicazione anche in ambito medico mi puoi salvare da questo punto di vista per favore ma guarda non so se per te ci sia qualche speranza non c'è nessuna speranza però mi dispiace ragazzi ma allora magari per qualcun altro qualcuno più giovane cioè la scansione 3D può fare tutto però non so se arriva anche a questo non è applicabile la plastica facciale la scansione a parte gli scherzi in ambito medico cosa possiamo fare? Allora in ambito medico effettivamente la scansione 3D ok la scansione 3D è molto utilizzata principalmente per la realizzazione di protesi su misura anche qui si parte dalla scansione del corpo umano tragica nel mio caso vai avanti e possono essere fatte varie cose quindi possono essere realizzate ad esempio realizzate sia protesi proprio da adattare ad esempio a monconi di pazienti amputati oppure possono essere realizzati ausili che riproducano ad esempio parti del corpo mancanti sulla base di quelle ancora esistenti quindi mi devo tagliare il naso mi stai dicendo questo più o meno ecco e quindi principalmente applicato nella protesica nell'ortesica e anche poi diciamo in ambito sportivo per creare appunto ausili e anche abiti sportivi particolari figato qual è il settore per chiudere più strano improbabile dove si trova applicazione che nessuno potrebbe mai immaginare adesso non mi soviene perché effettivamente le applicazioni sono cioè allora diciamo noi diciamo sempre questo che non c'è limite all'applicazione di uno scanner 3D e quindi qualunque cosa ci venga in mente diciamo che in teoria potrebbe essere potrebbe essere risolvibile con uno scanner 3D però è anche vero che bisogna ricordare che lo scanner 3D riesce a rilevare ciò che si vede quindi per esempio non pensiamo ad esempio di andare a rilevare delle cavità degli oggetti ci sono altre tecnologie per fare questo e ecco l'interno degli oggetti no però tutto ciò che è geometria esterna di qualunque cosa è fattibile forse l'applicazione più difficile per uno scanner ottico appunto è la scansione di oggetti trasparenti ah ok ah lì c'è qualche difficoltà c'è difficoltà perché la luce passa attraverso l'oggetto però anche in quel caso è possibile ovviare al problema per esempio utilizzando degli spray opacizzanti che permettono appunto la luce invece di essere riflessa dall'oggetto e quindi l'acquisizione può avvenire ulteriore domanda perché sono molto curioso nell'ambito ambientale questa bella ho ripetuto la parola però che ne so per esempio nei paesaggi skyline queste cose qui c'è applicazione immagino sì allora in ambito ambientale ci sono diverse applicazioni c'è quella che dici tu in ambito paesaggistico sicuramente spesso mediante l'utilizzo di droni che fanno scansioni 3D anche col drone sì anche col drone ma anche in ambito civile viene utilizzato il drone spesso per andare a rilevare per esempio i tetti dei palazzi altrimenti non acquisibili in altra maniera però in ambito ambientale ci sono anche altre applicazioni come per esempio il rilevo di fronti di cava o fronti di montagna e queste applicazioni permettono di andare a valutare uno stato di fatto di un'area oppure anche uno stato di progetto uno stato di avanzamento di uno scavo quanto costa uno scanner così giusto per darci un'idea allora come ti dicevo gli scanner sono tantissimi sono tantissimi quindi non è che c'è un prezzo di uno scanner perché i prezzi possono partire da poche migliaia di euro e arrivare a molto più di 100.000 euro ecco quindi purtroppo il range è molto ampio per cui non ti posso dare una cifra esatta però è importante sapere che essendo appunto molto ampio esistono anche tantissimi tipi di scanner e quindi c'è anche una vasta scelta visto che dobbiamo educare e qui veramente chiudiamo puoi spiegare in breve come può abbattere i costi diciamo l'uso di questa tecnologia nell'ambito produttivo per un'azienda certamente allora considera che innanzitutto ci sono due processi principali in cui lo scanner 3D può entrare e migliorare la situazione produttiva la prima operazione che si può fare con uno scanner è il reverse engineering e la seconda è il controllo dimensionale per quanto riguarda il reverse si tratta di rilevare oggetti già esistenti magari usurati danneggiati ma di cui non esiste più ad esempio un progetto CAD qui dovresti rifarlo da zero oppure magari esiste già questo oggetto va variato il ciclo produttivo ma non esiste più il progetto originale in questo caso è possibile riprodurlo tramite lo scanner 3D e a quel punto è come ritornare al progetto originale certo anziché metterci due mesi per fare il progetto esattamente ci si mette veramente poche ore veramente poche ore e questa è una delle prime cose poi molto utilizzati attualmente sono molto utilizzati nel controllo dimensionale perché attraverso appunto la scannerizzazione 3D ma anche l'utilizzo di software specifici di inspection è possibile andare non più come in tante aziende avviene a valutare soltanto alcune dimensioni specifiche di alcuni oggetti per capire se sono in tolleranza o meno ma l'oggetto può essere valutato nella sua completezza quindi può essere scansionato globalmente e andato a confrontare col progetto originale per vedere se esistono difformità di produzione rispetto a quanto definito dal progettista e questa cosa può essere fatta anche non a campione ma sul 100% dei pezzi senza aumentare i tempi bene quindi anche a livello di audit potremmo dire giusto? esatto sì non so se ho usato il termine giusto sì sì controllo qualità esattamente grazie mille molto simpatica Silvia ci dicevano che invece in realtà magari non lo era proprio però invece no mi sono ricreduto grazie Silvia grazie dacci link finali dell'azienda così vanno a vedere cosa combinate certamente allora www.viger.eu e poi potete trovarci anche su facebook alla pagina Viger 3D attenzione Viger esattamente non metteteci la i di mezzo perché se no non li trovate perché vi conosciamo e siete poco attenti bene grazie mille ancora per la tua presenza qui e alla prossima intervista in diretta su facebook e poi anche su youtube e su tutti i canali podcast di questo piatto